La regione siciliana mantiene ferma la sua linea, a termini merese la Fiat deve continuare a produrre auto e il presidente Raffaele Lombardo invita l'amministratore delegato Sergio Marchionne a cambiare atteggiamento sul futuro dello stabilimento siciliano. La nostra è una posizione abbastanza ferma, non intendiamo mollare di un millimetro sulla richiesta, la pretesa, il diritto e il dovere che la Fiat resti a produrre auto e non soltanto ad assemblarle perché c'è un patrimonio di risorse umane, di professionalità, di speranze, di 1800 dipendenti e di centinaia e centinaia di operatori dell'indotto che non possono essere buttati in mezzo a una strada. Se la Fiat dice di investire 8 miliardi a livello globale per potenziare i suoi impianti, qui si è investito tanto in questi anni, neanche a carico dei contribuenti, se è vero che a Torino piuttosto che a Pomigliano o a Iesi o a Cassino dove ci sono fabbriche la Fiat potenzia anche gli organici e investe, deve farlo anche in Sicilia. Noi abbiamo assicurato la nostra partecipazione, un progetto di rilancio con investimenti finanziari notevoli, che la Fiat faccia la sua parte e continua e che il governo ci dia una mano. Il sindacato si mobilita in una giornata di proteste, di sciopero. Noi siamo pronti e faremo comunque, non soltanto con una lettera, ogni azione di proteste e di pressione sul governo e così come ha detto non conceda vantaggi a un'azienda che si comporta così cinicamente nei confronti del nostro territorio e del nostro popolo. Lombardo sgombra il campo da ogni equivoco anche sull'ipotesi della cosiddetta cordata siciliana intenzionata a rilevare lo stabilimento di Sicil Fiat per assemblare veicoli con motori ecologici. Ho anche incontrato, per carità, i responsabili che mi parlano di investitori siciliani che in sinergia con grandi aziende indiane, orientali, potrebbero qui rilevare. Se c'è, venga e affianchi la Fiat. La Fiat non può essere liberata da questo impegno, che non deve essere un peso, ma sicuramente una grande risorsa per la crescita complessiva dell'azienda, ma anche della Sicilia. Anche la Chiesa ha preso posizione nei giorni scorsi, schierandosi a difesa della sopravvivenza dello stabilimento Fiat di Termini Merese. È naturale che la Chiesa, che è naturalmente l'istituzione più radicata nella nostra cultura, nella nostra anima, nel nostro popolo, si schieri a fianco dei lavoratori. Lo fa in tutte le parti del mondo, che lo faccia qui, che sia a fianco dei cittadini che soffrono questa incertezza o questa disperazione. È una cosa che non può che essere apprezzata, è un fatto molto bello e molto positivo. Ho letto le prese di posizione del parroco, chiaramente siamo a suo fianco anche noi. Abbiamo il dovere di fare tutti la nostra parte, schierandoci a favore non di una pretesa, di una invenzione, ma bensì di una straordinaria realtà che non può essere mortificata.